e c'ha un pregio De Keteler sta sicuramente fatto a un bel ragazzo dici, biondo no ah beh magari è alto strutturato bene comunque è un po' invidia no c'ha un grande pregio che pregio c'ha? che si chiama Char De Keteler e quindi? perché se fosse chiamato Carlo Locale Caldaia no che è la traduzione di Char De Keteler dall'olandese la serie A manco Corbinoco non l'avrebbe vista manco Corbinoco arrivederci che se ne va? per favore